Viviamo in un mondo che è strutturato sulle disuguaglianze, sulla consapevolezza o comunque il pensiero che alcune vite valgano più di altre. Noi partiamo con questa consapevolezza, col fatto che la nostra vita vale quanto quella delle persone che in questo momento sono colpite dalla guerra e l'unica differenza è che noi siamo stati, si può dire, fortunati. Sì, stiamo partendo appunto per la città di Micolaive che si trova a una cinquantina di chilometri dal fronte, che al momento si trova appunto all'altezza di Kherson. Micolaive è una città che è stata fin dall'inizio della guerra estremamente colpita dai bombardamenti, che è priva di acqua potabile e che in questo momento ha molto bisogno appunto di aiuti umanitari. Noi andiamo lì in realtà all'interno di una comunità che si occupa proprio del sostegno delle persone del territorio, attraverso gli aiuti umanitari ma soprattutto attraverso l'accoglienza e la vita comunitaria. Andiamo lì a fare proprio questo, quindi a dare sì un aiuto concreto ma allo stesso tempo a portare vicinanza alle persone. Siamo orgogliosi di queste ragazze e di questi ragazzi di ACMOS che hanno deciso di spendersi in prima persona per portare un aiuto concreto alla popolazione ucraina colpita dal conflitto e dall'invasione russa. Quando i rappresentanti di ACMOS sono venuti in ufficio a raccontarci di questa esperienza che sta già andando avanti da qualche mese, e a chiedere un aiuto concreto a città metropolitana abbiamo pensato di mettere a disposizione questo mezzo per portare aiuto, per portare tutto quello che serve alla popolazione ucraina che è in contatto con i ragazzi di ACMOS per dare un segnale concreto di vicinanza del territorio e delle istituzioni. Sono cinque giovani donne che partono per l'Ucraina e vanno a dare un aiuto concreto, era doveroso per la città metropolitana dare il proprio sostegno tramite questo furgone, quindi davvero concretamente accanto a un protagonismo e una voglia di impegno giovanili che questo paese può ancora vantare.